Dalle prime ore dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodi a cautelare nei confronti di 11 persone facenti parte di un sodalizio criminale che con base alle porte di Roma spacciava droga in molti casi anche a minorenni e metteva in atto violente estorsioni caratterizzate da gravi minacce e aggressioni fisiche nei confronti di chi non pagava. Degli 11 arrestati 4 uomini, 3 ventenni ed una cinquantenne sono stati associati in carcere mentre altre 7 persone, 4 uomini e 3 donne dell'età compresa tra i 20 e i 30 anni sono state sottoposte agli arresti domiciliari. Le ragazze del gruppo con il ruolo di pusher in alcune circostanze nascondevano le dosi di stupefacente da vendere all'interno degli indumenti intimi. Lo spaccio avveniva principalmente nei pressi di un circolo molto frequentato da adolescenti e giovani minorenni, per questo motivo ad alcuni indagati il GIP ha contestato anche l'aggravante di aver effettuato le cessioni di stupefacente in un luogo destinato all'aggregazione dei giovani. Per l'operazione sono stati impegnati circa 70 carabinieri supportati da unità cinofile e da un elicottero. Grazie.